ciao a tutti ciao a tutti da Leonardo ragazzi stasera in compagnia ci sono anche le mie gemelle che fanno un burdello numero uno numero uno allora ma avete sentito Rocco commesso mamma mia Rocco commesso ok number one number one Rocco commesso number one allora praticamente Rocco commesso ha detto a Nedved credeva credeva sicuramente che gli facessero un bel regalino alla Juve e ha detto al signor Nedved di prendere una bella camomilla perché sai cosa Rocco commesso number one number one number one ma ora veniamo a noi veniamo al calcio mercato veniamo al calcio mercato storie interessanti dal calcio mercato allora addirittura si parla di Izzo e Zazza a Firenze con uno scambio con Duncan e Kwame come vi sembra questo scambio e vabbè basta commentare e me lo dite no non è che che è un problema e una bella notizia perché a me piace questo giocatore questo è il mio parere personale conti a Firenze al posto di Lirola che è in partenza poi Caicedo vuole Firenze vuole Firenze e i viola devono cominciare a trattare con la Lazio e convincere la Lazio perché Caicedo vuole venire fortemente alla Fiorentina Benassi rientra a Firenze per adesso mamma mia mamma mia ho fatto la diretta per questo mi vergogno mi vergogno mi vergogno allora c'è un nuovo nome dalla Romania si chiama Man dice che è un bomber cioè veramente è un bel bel giocatore è un Mutu 2 ma chi lo sa potrebbe essere una scommessa però non si sa non si sa non si sa staremo a vedere io intanto vi saluto mi godo le mie bambine stasera me le coccolo tutte e ci vediamo con le prossime bombe di calcio mercato ciao da Leonardo mi raccomando fortemente che se vi è piaciuto il video mettete un like al video e seguitemi ciao saluta anche te anche i bacini mamma mia che bello